Buonasera e bentornati all'appuntamento con l'informazione su Arezzo TV. In apertura la cronaca, dopo sette giorni di ricovero in ospedale è arrivata la peggiore delle notizie nelle ultime ore. La bimba di quasi tre anni, soccorsa lo scorso 29 luglio in piscina, Bucine non ce l'ha fatta. La piccola figlia di turisti tedeschi era in vacanza in agriturismo quando è stata soccorsa da un medico ospite della struttura. Subito dopo era stata presa in carico dalla 118 e trasportata con il soccorso al Meier dove era arrivata in condizioni gravissime. Proprio in queste ore la drammatica conferma della morte. La salma è a disposizione della procura di Arezzo che ha aperto come da prassi un fascicolo. Sulla vicenda stanno svolgendo gli accertamenti i carabinieri. Ed incidenti in acqua e soprattutto come prevenirli ne abbiamo parlato con la misericordia di Arezzo da tempo impegnata su questo fronte. Non è tanto l'acqua il pericolo o l'ambiente acquatico in generale il pericolo, anche se necessariamente viene considerato un ambiente ostile. I pericoli in realtà sono nel comportamento, nel famoso fattore umano. E' partendo da qui che la misericordia di Arezzo ha deciso di divulgare le informazioni più corrette possibile in tema di sicurezza in acqua. Lo ha fatto con un decalogo di semplici consigli. Gli incidenti in acqua solamente in Italia sono più di mille all'anno. 400 di questi sono mortali tra le vittime, principalmente minori. Diciamo che è la prima regola. La sorveglianza del minore con l'acqua è una sorveglianza, una responsabilità in vigilandi, si dice. Cioè deve essere continuamente a vista. E continuamente significa evitare assolutamente distrazioni anche temporanee come può essere quello di guardare il cellulare. E non lasciare, soprattutto non lasciare punti di acqua incustoditi anche intorno a casa. Tra gli altri consigli della misericordia, quello di valutare bene le proprie capacità natatorie. Non trovarsi poi messoli in acqua, non forzare le proprie prestazioni, attendere dopo i pasti ed infine massima attenzione allo sbalzo termico. Soprattutto d'estate capita di essere accaldati al sole, in fase digestiva eccetera. In queste situazioni tuffarsi in acqua all'improvviso senza acclimatarsi progressivamente è pericoloso perché si può avere un malore particolare che si chiama sincope della idrocuzione. Infine, in caso di necessità, il consiglio è quello di non entrare in acqua, bensì di fare una buona chiamata al 112. Che poi provvede immediatamente, già in base alla descrizione del fatto che l'incidente sta avvenendo in acqua, attiva tutta una serie di procedure, quindi non si perde un attimo in realtà nel descrivere quello che sta succedendo. Perché il soccorso in acqua è pertinenza di figure professionali qualificate, che sono gli assistenti di salvamento. Statisticamente il rischio per chi soccorre in acqua è maggiore rispetto a chi viene soccorso. Grave incidente ieri sera in via Fiorentina che ha coinvolto una minore, in corrispondenza dell'incrocio tra via Scarlatti e via Morse, uno schianto tra un'ambulanza in servizio e un motociclo. Il giovane di 16 anni è finito a terra riportando traumi e ferite. Sul posto i sanitari dell'emergenza urgenza che hanno disposto il trasferimento in codice 3 all'ospedale Le Scotte di Siena. Intervenuta anche la polizia municipale per i rilievi di legge, entrambi i veicoli sono stati sottoposti a sequestro in attesa delle disposizioni del magistrato. Un altro incidente terribile la scorsa domenica ha interessato la provincia di Arezzo, lo schianto lungo l'autostrada del Sole. Adesso è stata identificata la vittima. E' stata identificata la vittima del drammatico schianto in A1 tra Monte San Savino e Arezzo. Si tratta di un cittadino cinese di 44 anni, probabilmente la guida turistica. Era arrivato da pochi giorni in Italia assieme agli altri turisti. Il gruppo aveva visitato Roma, poi era salito sul pullman in direzione Firenze, ma al chilometro 360 in direzione nord il terribile schianto contro il garrail, che come una lama ha trafitto il muso del mezzo non lasciando gli scampo. Dall'azienda sanitaria invece nelle ultime ore sono arrivate notizie positive. Tutti dimessi i pazienti negli ospedali San Donato di Arezzo e Santa Maria Lagruccia in Valdarno. I dimessi sono rientrati nell'albergo fiorentino nel quale avrebbero dovuto alloggiare già da domenica sera. I feriti più gravi portati a Siena sono comunque fuori pericolo di vita. Dopo l'incidente era stato subito attivato il piano delle maxi emergenze, con medici, infermieri e volontari a far da spola dal pullman agli ospedali allertati. La procura di Arezzo intanto ha già avviato un'inchiesta per omicidio stradale. Il sessantenne autista polacco alla guida del mezzo dovrà chiarire gli interrogativi sull'incidente. Al momento la polizia stradale di Arezzo non esclude alcune ipotesi, un malessere, una distrazione o un colpo di sonno. Come da prassi sono stati disposti gli esami tossicologici, i cui risultati arriveranno nei prossimi giorni. Ancora una truffa ai danni di un'anziana in provincia di Arezzo, l'ultimo raggiro messo a segno nel Cortonese. Il figlio è in eguai, da qui la richiesta di denaro in contanti per salvarlo dal carcere. Il copione messo in scena dai truffatori è sempre il solito. Vittima del raggiro adesso un 83enne residente nel Cortonese che a seguito delle richieste insistenti e pressanti è caduta nell'inganno, consegnando ai malviventi quasi 6.000 euro in contanti ed alcuni preziosi in oro. Tutto è iniziato con una chiamata sul telefono di casa. Dall'altro capo della cornetta, un uomo che si è qualificato come avvocato, dice di essere un amico del figlio finito nei guai per aver provocato un grave incidente stradale. Da qui la richiesta di denaro. Il pressing psicologico è così già iniziato. A quel punto l'anziana infatti riceve anche un'altra chiamata sul cellulare da un sedicente maresciallo che conferma la versione del legale. La donna così, dopo aver raccolto 2.300 euro, consegna il denaro ad uno sconosciuto che bussa alla sua porta. Troppo poco però, secondo i truffatori. Così la signora, dopo aver ricevuto un'altra chiamata, prepara una seconda busta con altri 3.400 euro e alcuni monili d'oro, ritirata anche in questo caso da un ragazzo apparso alla porta. L'anziana attende così le notizie del figlio, ma poco dopo realizza di essere stata ingannata e richiede l'intervento dei carabinieri che adesso stanno indagando sull'accaduto. In Navaldarno invece è stato arrestato una trentenne del posto con l'accusa di tentato furto dopo essere stato beccato in flagrante dai carabinieri mentre faceva irruzione all'interno di un ambulatorio veterinario dal quale tentava di portare via oggetti di valore. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato la scorsa notte dai militari che erano stati allertati dalla 112 per la segnalazione di un'effrazione. Il Tribunale di Arezzo adesso ha convalidato l'arresto e ha disposto l'accompagnamento in carcere in attesa del giudizio. Voltiamo pagina adesso. Cambia il numero per chiamare la guardia medica, o meglio il servizio di continuità assistenziale. 11-61-17, questo è il numero in arrivo anche in Toscana per chiamare la guardia medica, ossia il servizio di continuità assistenziale che sostituisce il medico di famiglia nei giorni feriali dalle 20 alle 8, nel fine settimana dalle 8 del sabato alle 8 del lunedì e nelle festività infrasettimanali dalle 10 del prefestivo alle 8 del mattino feriale seguente. Il numero europeo è gratuito e raggiungibile da fisso o cellulare. Sarà attivo da settembre, si parte dal 16 per la città metropolitana di Firenze e le province di Perato e Pistoia. Dal 21 ottobre entrerà poi in funzione ad Arezzo, Grossetto e Siena per poi essere attivo dal 18 novembre nelle province di Livorno, Lucca, Massacarrare e Pisa. A regime saranno quasi 200 le linee attive in contemporanea a cui risponderanno operatori competenti e medici qualificati. Gli operatori risponderanno alle richieste di bisogni non urgenti dispensando consigli ed assistenza. Nel caso in cui invece si ravvisi una situazione di emergenza i cittadini dovranno sempre solo rivolgersi al 112 ovvero il numero unico per le emergenze. L'1161-17 non parlerà solo italiano. Dei traduttori saranno in grado di interloquire e fare da ponte in 20 lingue diverse. Il sistema prevede inoltre una funzione di tutela dei medici di continuità assistenziale. In caso di aggressione o di fronte a situazioni di rischio potranno attivare sul dispositivo di cui saranno dotati per la gestione delle informazioni dei pazienti un segnale d'emergenza che arriverà direttamente alla centrale operativa per chiedere l'intervento agli organi preposti alla pubblica sicurezza, un servizio attivo ad oggi solo in Toscana. Una volta a regime il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. La città di Arezzo è la più cardioprotetta d'Italia e da Confartigianato e dall'Asla Toscana Sud-Est adesso un progetto per censire le postazioni presso le sedi delle aziende associate. Una mappa per individuare i defibrillatori. Parte così il censimento voluto da Confartigianato e dall'Asla Toscana Sud-Est. Arezzo è infatti la città più cardioprotetta d'Italia e l'associazione di categoria in collaborazione con il servizio di Emergenza Urgenza ha aderito al progetto per sensibilizzare le imprese a retina sull'importanza degli strumenti salva vita e per mappare quelli presenti nelle varie aziende. Da anni l'Emergenza Urgenza porta avanti il progetto Cuore che riguarda l'uso dei defibrillatori e la formazione dei cittadini. È però di fondamentale importanza essere a conoscenza della dislocazione sul territorio dei defibrillatori, gli unici strumenti in grado di assistere un paziente in arresto cardiaco. Da qui la necessità di una diffusione capillare di questi apparecchi nel territorio a retino ma anche quella di mapparli e tenerli costantemente efficienti. Un'esigenza che adesso è stata raccolta da Confartigianato iniziando un percorso di informazione e diffusione rivolta alle aziende affiliate in collaborazione con l'Emergenza Sanitaria a retina per portare avanti l'operazione di censimento degli strumenti e sensibilizzare le imprese. La creazione di una mappa di defibrillatori, dichiara il segretario provinciale di Confartigianato Imprese Arezzo Alessandra Papini, non è solo un passo avanti verso una comunità più sicura ma è un atto di responsabilità collettiva e sociale alla quale non possiamo esimerci. Confartigianato e le piccole e medie imprese che spesso hanno questo prezioso strumento nelle proprie sedi riporteranno sicuramente il loro contributo. Una poltrona per i prelievi per il reparto di oncologia della Zandonato è quella donata stamani dall'associazione a retina PB73 dal valore di 2.500 euro. Una poltrona che a breve sarà seguita da una seconda per la quale l'associazione preseduta da Barzotti ha già raccolto i fondi necessari all'acquisto. E cambiamo argomento, tocca infatti anche la provincia di Arezzo il progetto Toscana Diffusa. In arrivo milioni di euro per un'area composta da 17 comuni e due unioni di comuni tra Casentino e Valtiberina. In tutto sono 115 comuni in cui ricadono le sei aree della Toscana diffuse per le quali la Giunta regionale ha approvato gli elenchi degli interventi infrastrutturali che potranno essere sostenuti con le risorse del Fondo Europeo per lo sviluppo regionale per circa 70 milioni nell'ambito delle strategie territoriali delle aree interne ai quali saranno aggiunti 34 milioni disponibili per le imprese e le comunità energetiche ed infine 6,6 milioni del Fondo Sociale Europeo. Nella retina è stata scelta una strategia dal titolo Casentino e Valtiberina Toscana d'Appennino Monti dello Spirito. E adesso ci spostiamo in Valdarno, a San Giovanni Valdarno, ieri in piazza Masaccio, la magia dell'opera di Giacomo Puccini. In piazza oltre 600 persone per ammiare la bohema. Portare l'opera in provincia è fondamentale perché avvicina tantissimo il pubblico, sia giovane che meno giovane, che casomai non si sente all'altezza di andare a frequentare i grandi teatri, le grandi platee. E una volta che abbiamo anche solo contagiato 10 persone, abbiamo creato un ponte verso il futuro. La grande lirica torna in piazza Masaccio a San Giovanni dopo molti anni di assenza. Circa 700 gli spettatori che hanno assistito alla messa in scena della bohema, una delle opere più amate di Giacomo Puccini. Per questo ritorno, dopo 15 anni, dell'opera lirica in piazza. La bohema, un tributo a Giacomo Puccini nei 100 anni dalla morte del grande maestro. E noi siamo veramente tanto orgogliosi. Io ringrazio tutti coloro che hanno consentito che per quest'anno tornasse nuovamente l'opera in piazza. L'evento è stato il clou del cartellone estivo della città e parte integrante della 19esima edizione del Terre d'Arezzo Music Festival. Abbiamo fra orchestrali, coristi e solisti 65 persone. impegnate nell'allestimento, più tutto lo staff tecnico. E quindi una compagnia lirica di primo ordine. La produzione è Fantasia in Re di Reggio Emilia, curata con la direzione sempre del maestro Stefano Giaroli. Quindi diciamo una compagnia rodata che siamo sicuri offrirà uno spettacolo di ottimo livello. La performance è stata affidata all'Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane e al coro dell'opera di Parma. È una bohème, come si dice in modo elegante, nel solco della tradizione. Nel senso che non vuole attaccarsi a nuovi concetti, ma vogliamo dare al pubblico quello che il pubblico si aspetta nel modo migliore possibile. Quindi ambientata nell'epoca giusta e con uno sfarzo di costumi e con le giuste cose che il pubblico si aspetta e in più con delle voci che sono quelle che poi non dimentichiamo fanno l'opera, per cui l'opera la fanno i cantanti. E devo dire che siamo stati molto fortunati perché abbiamo potuto avere dei cantanti veramente di grande valore che daranno sicuramente delle gioie al pubblico di questa sera. Ultimo atto per Arezzo Smart Festival che saluta un'estate positiva tra cinema, musica e teatro. Giovedì 8, con inizio alle 21.15, protagonista della serata presso l'Arena Edenan di Arezzo, il quintetto formato da Carlo Atti, Santiago Fernandez, Paolo Campanelli e Giovanni Paolo Liguori con il concerto Bebop e Beyond. L'evento è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Jetson Corner. E adesso la pagina dello sport per parlare delle Olimpiadi di Parigi, quinto posto per la tiratrice di Ponticino, Martina Bartolomei, nello skid misto. Il cielo e il tempo non ci assiste molto in questi giorni perché fa molto freddo, ma cerchiamo comunque di ottimizzare per gli allenamenti e quindi faremo sempre il nostro meglio. Si chiudono con un quinto posto le Olimpiadi a Parigi per la retina Martina Bartolomei che è gareggiato nella competizione mista di skid assieme a Tamarro Cassandro. Si tratta di una specialità di tiro al piattello che prevede 8 postazioni di sparo ed un solo colpo a disposizione per ogni bersaglio lanciato in aria. Lo skid azzurro può comunque festeggiare. A firmare l'impresa sono stati infatti Diana Bacosi e Gabriele Rossetti che hanno battuto gli Stati Uniti in finale mettendosi al collo l'oro olimpico nello skid a squadre miste. Quinto posto invece per la coppia Bartolomei Cassandro che ha realizzato un punteggio di 144 su 150, punteggio che non è stato sufficiente per entrare nella lizza dei primi quattro e disputare il match per la medaglia di bronzo. Il bersaglio è stato mancato alla fine però per un soffio. Ne sono stati infatti sufficienti 146 a classificare Cine d'India per la sfida finale. Nello specifico la tiratrice Aretina ha fatto registrare 24 su 25 alla prima serie, 23 su 25 alla seconda ed infine 23 su 25 alla terza. Un risultato che arriva a poche ore dal diciannovesimo posto ottenuto dalla tiratrice Aretina. Bartina Bartolomei, 33enne, nata da Rezzo e da anni risiede alla Terina là dove si allena e dove ha cominciato a sparare i primi tiri al piattello e proprio dove tutto il team azzurro si è allenato in vista delle Olimpiadi. Raffaele Ciurnelli della Tennis Giotto è stato invece convocato dalla Nazionale Italiana per i campionati europei Under 16. Il tennis, nato nella 2008, avrà la responsabilità di tenere alto il trecolore nella massima manifestazione continentale di categoria e in programma da lunedì 23 a domenica 29 settembre a Parma dove si sfideranno i migliori giovani di 40 paesi. E' un altro successo per il tennis della provincia di Arezzo, il castiglionese Andrea Papponi, vincitore nel campionato del mondo medici che si è svolto a Budapest in Ungheria dove ha conquistato la medaglia d'oro e il titolo di campione del mondo medici nel singolare individuale, più 55, battendo il lettone Egils Valenis. Già vincitore di 10 titoli mondiali, vinta anche una medaglia d'argento nella competizione tra nazioni, tra le quali erano presenti quest'anno anche Stati Uniti, Australia e d'Indonesia. Medaglia d'argento anche nel doppio individuale, più 55. Questa per stasera era l'ultima notizia. Vi ringrazio per l'attenzione. Arrivederci. Grazie.